E' prevista per sabato l'apertura parziale della rotatoria all'incrocio tra via Arno e via Po. Il cantiere si sposterà lungo lo stradone per la realizzazione della parte dell'intervento ancora in corso. Lo scorrimento del traffico dunque sarà garantito dall'apertura delle rampe parallele a via Po che completata l'opera formeranno la rotatoria allungata. Di sera abbiamo fatto un sopralluogo, io la soggio mangiacomo, c'era l'impresa, c'era l'architetto Mattei. Quindi abbiamo deciso oggi, ci sarà la conferma in serata di sabato, di riaprire al traffico. I lavori non sono terminati, però intanto la rotonda apre al traffico in modo che parte cittadini si potranno cominciare ad abituare al nuovo sistema. Ma poi ci sono delle lavorazioni da fare e per queste lavorazioni c'è necessità che la rotonda apra. Io voglio esprimere un concetto generale su quello che è il traffico, che era il primo punto del mio programma elettorale. Io direi che la prossima campagna elettorale sicuramente nel mio programma non metterò più al primo punto il traffico, perché il problema del traffico a Teramo è risolto e è risolto il problema anche attraverso il progetto Teramo a traffico zero che la Regione ci ha finanziato, perché saranno tutta una serie di rotonde in città a cominciare dalla rotonda del Promenade, la rotonda davanti al Tribunale, la rotonda di Cartecchio, insomma un sistema di rotonde lungo la strada e l'università e un sistema di rotonde che faciliteranno la viabilità. Bisogna adesso porre un po' attenzione sul sistema dei parcheggi, perché su questo ancora si deve un po' lavorare. È chiaro che l'esperimento di Santa Maria Abitetto ha funzionato, con grande soddisfazione da parte dei residenti, verrà estesa a tutta la città. Insomma, su questo problema, su questo particolare punto abbiamo messo l'attenzione, è un problema che questa amministrazione ha saputo risolvere, così come tanti altri problemi della nostra città, che oggi, posso dire, non sono più problemi.